Forse proprio partendo da coloro che ci sono accanto e che a volte ci danno un consiglio, ci sostengono nelle nostre difficoltà, a volte ci orientano anche nella nostra vita. Sappiamo accogliere tutto ciò che di buono e di santo ci viene offerto perché possono essere manifestazioni di Dio e anche nell'esperienza di accogliere coloro che noi non stimiamo, che non reputiamo persone all'altezza, anche attraverso di loro, perché no? Dio si può manifestare, perché Dio è in tutti, perché Dio si manifesta nelle cose più umili e semplici, perché Dio è capace di fare cose straordinarie anche nell'ordinario della nostra esistenza. Questo era lo sguardo di San Francisco, quando amava e lo esprimeva in tutti i modi, anche attraverso quel cantico meraviglioso che ci ha lasciato, quando guardava e amava tutte le creature, perché tutte potevano essere espressione di quel Dio che è creatore, che è Padre, ma che è Redentore e che si è manifestato proprio attraverso il Figlio Gesù che ha condivito la nostra esperienza terrena. E allora facciamo in modo di essere non tanto i concittadini increduli che vedono in Gesù la persona che non è all'altezza, siamo piuttosto figli di Dio che in Gesù vedono colui che ci ha salvato. Sia lodato Gesù Cristo.